Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto i commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E ragazzi eccoci qua, 20 agosto, poco fa è uscito sul canale un video del buon compleanno di The Sims 4. Capirete meglio, andate a recuperare il video se non l'avete visto, perché oggi è una data importante. Ma ragazzi, la community dei Sims 4 si sta muovendo, e come si muove? E non solo la community, anche i SimGuru. Tanto che nelle ultime ore sono trappelate alcune indiscrezioni, alcune cose che, beh, vanno sicuramente commentate. La prima fra tutte ragazzi, il 18 agosto è arrivata la patch che ha fixato alcuni problemi, ma non solo quella. Starete vedendo che tutti i bug segnalati dalla community sono in saccoccia dei SimGuru. Hanno detto che non hanno potuto fixare tutto, ma hanno preso in considerazione tutto, cercheranno di risolvere tutto. Quindi dobbiamo solo aspettare a tenerci ai loro tempi. Però tutti i bug segnalati, assolutamente, loro li sanno, li hanno e cercheranno di lavorare per fixare il più possibile. Questa cosa non è per niente male. E altra cosa ragazzi, la patch è uscita a multipiattaforma. Quindi per tutte le piattaforme dove si gioca The Sims 4 PC e console, altra cosa importante, ormai The Sims è diventato multipiattaforma. Se riusciti a far uscire i DLC lo stesso giorno, le patch lo stesso giorno, la galleria ormai è condivisa. Quindi ragazzi, devo dire che da quel punto di vista ormai si può parlare di community di The Sims 4 unita, compatta e unica. Ma cosa è trappelato nelle ultime ore? Beh ragazzi, non vi negherò, e lo sapete, ho fatto dei video, news e info a riguardo in questi mesi, che su Twitter tantissime volte, tantissime, si è fatto riferimento ai bambini. Ragazzi, bambini, toddler, fasce d'età, davvero tante, tante volte. Ma stavolta siamo arrivati al dunque, perché se buttato in ballo, beh, The Sims 3 Generation. E a questo punto abbiamo forse la risposta che ci spiega il perché abbiamo solo sfiorato in questi anni il concetto di Generation che abbiamo conosciuto nel terzo capitolo della saga. Infatti, se ci pensate, abbiamo degli staff pack legati ai bebè, abbiamo vita da genitori, che effettivamente sfiora il concetto di Generation. Ma ragazzi, il Sim Guru Ninja ha risposto ai tweet, ve li starò facendo vedere, dichiarando che non c'è niente di più diverso ed effettivamente è così. Su The Sims 4, ragazzi, le fasce d'età più basse hanno delle interazioni, hanno i compiti che li portano da casa, hanno i progetti scolastici, hanno tutto ciò che volete, ma è quasi una sorta di percorso che li porta alla fase successiva della crescita. E infatti, proprio il Sim Guru Ninja risponde a un tweet in questo modo. Due pacchetti completamente diversi. Infatti, una è un'espansione The Sims 3 Generation, una è un game pack, e la genitorialità non è concepita come le generazioni, allo scopo di rendere i bambini e gli adolescenti più significativi durante il loro percorso di crescita, portandoli alla fase adulta. Ed è vero, ragazzi, abbiamo infatti l'educazione, abbiamo tutto il pannello delle cose per i bambini, per i toddler, tra virgolette, i toddler no, ma anche gli adolescenti. Cioè, abbiamo tutte le cose che servono. Quindi, in realtà, dobbiamo educare i figli per andare avanti, ma non c'è un pacchetto di gioco che effettivamente ti fa giocare tantissimo con quelle fasce d'età, come per dire, era Generation. Questa cosa, ragazzi, è strana, sì, perché, ragazzi, alla risposta di un altro utente, il Sim Guru Ninja dice ma quindi possiamo sperare di avere su The Sims 4 un pacchetto in stile Generation? Effettivamente la risposta del Sim Guru non tarda ad arrivare e dice non escluderei nulla, anche perché sarebbe divertente, no? Questa cosa, ragazzi, è stramba. Io vi ricordo che il gamepack è stato definito come molto divertente. Potrebbe essere divertente? Ora, ragazzi, io non credo di trovarmi davanti a un troll della vita. Potrebbe anche essere, conoscendoli, ma io penso che il tema del gamepack sia abbastanza, ormai, sicuro. Si parla di spazio, non si parla di fasce d'età. A meno che, se un adolescente va per generazioni, si va per generazioni di marziani, ma lo escludo. Questo, però, significa che non esclude la possibilità che arrivi un pacchetto stile Generation che riguarda le fasce d'età. E, oserei dire, era ora. Quando si è parlato dei Letti a Castello, ragazzi, io vi ho detto che i Sim Guru non l'hanno escluso. Anzi, sono stati molto chiari. Un po' di tempo fa avevano detto ragazzi, i Letti a Castello arriveranno solo che sono stati concepiti per un altro DLC. E, ragazzi, lo ripeto sempre, il Letto a Castello è fatto per bambini e adolescenti, non per una coppia di sim. Quindi, riguarda le fasce d'età più piccole. Ovviamente, con un Generation maniera, mi aspetto magari di avere delle interazioni o delle animazioni particolari. I bambini possono giocare uno sul letto sotto, uno sul letto sopra. Quindi, che so, ci saranno delle animazioni, dei giochi che faranno i bambini. Insomma, diventerà sicuramente, sì, un letto dove riposare, ma credo diventerà uno strumento di gioco per quelle fasce d'età. Ecco perché me lo aspetto incluso su un pacchetto stile Generation. Questo, ragazzi, però vuol dire che siamo davanti alla papabile possibilità che in futuro arrivi un altro innesimo DLC di completamento di gioco. E questa cosa, non mi dispiace affatto, ragazzi, però va sempre nella stessa direzione. Mentre abbiamo avuto dei DLC completamente a caso, abbiamo, nell'ultimo periodo, saggiato la volontà dei Simguru di sentire le nostre richieste, di portare con le patch, non l'ultima, ma quella prima di Ecoliving, delle cose che erano, in realtà, comuni negli altri capitoli della saga. Ora arriveranno anche in autunno, è già stato detto, ragazzi, è dichiarato, in autunno arriverà la patch che porterà nuovi toni di pelle e anche i capelli. Insomma, siamo davanti a un periodo videoludico di Sims 4 che tende al completamento. Ma credo, e mi sento di escludere, che questo fatto riguardi il gamepack che sta arrivando. Eh sì, ragazzi, perché se davvero il tema è dello spazio, io mi aspetto di vedere, a breve, a brevissimo, secondo me, un gamepack molto strano, alla StrangerVille maniera, e non intendo come gameplay, ragazzi, ma intendo proprio come intenzione. Non vedo all'orizzonte, nel gamepack, se dovesse essere lo spazio, un qualcosa di così inclusivo, come, per esempio, sono state le stagioni, i cani e i gatti, e la stessa vita ecologica. Vita ecologica, sì, è un'espansione nuova, ma si mischia benissimo nel contesto del simulatore di vita. Mentre StrangerVille, per assurdo, è qualcosa che appartiene quasi a un mondo a parte. E questa cosa, credo, sarà ripetuta anche in questo gamepack. Magari si mischierà benissimo al gameplay e lo useremo di più di quanto usiamo la campagna contro la pianta madre. Non è dato sperlo. Però comunque, vedendo lo spazio, io mi aspetto qualcosa di molto strambo. Mi aspetto di trovarmi davanti a un pack che dico che cos'è sta roba? La stessa reazione che abbiamo avuto per StrangerVille. Ma questo non esclude il fatto che DLC futuri arriveranno e proprio nelle mire degli sviluppatori ci sono DLC del calibro di Generation. Quindi loro sanno, sono consapevoli di ciò che vogliamo. E quindi probabilmente sì, ragazzi. Siamo vicini, siamo lontani. Non saprei. Probabilmente siamo in una fase di mistero. Perché, ragazzi, vi ricordo, il gamepack sta per arrivare. Potrebbe arrivare una seconda espansione quest'anno. Tutti, io, me compreso, in realtà, per primo, do per scontato che sia la montagna, i riferimenti alla montagna si sprecano. Ma perché no? Potremmo essere anche davanti a un'espansione sulle fasce d'età, invece che la montagna. O la potremmo avere l'anno prossimo. Insomma, non sappiamo davvero cosa sta per succedere. Quindi, ancora una volta, ragazzi, queste news e info servono per capire un po' le intenzioni. Ma in realtà siamo in un momento in cui loro non ci fanno capire nulla. E questa cosa mi piace. Però, ragazzi, vedendo le risposte del SimGuru, siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Le fasce d'età verranno migliorate in qualche modo. Pare essere così. Arriverà una sorta di Generation. E ora sta a noi capire se ci piace o no. Anche perché il nuovo gamepack, se davvero dovesse essere così unico, così forte nel tema, come è stato Strangerville, tenderà probabilmente a dividere. Ci saranno persone a cui piace, persone a cui non piace. Mentre, se dovesse arrivare un tema Generation, un po' come le stagioni, un po' come lo stesso Vita da Genitori, è un gamepack che comunque bene o male compri, perché effettivamente ti serve nel gameplay. Quindi siamo davanti a dei gamepack strambi, pare essere così, ma anche altri DLC che invece tendono a completare e anzi arricchire il gameplay di base del gioco. E questa cosa mi piace. Mi piace il contrasto, perché pare essercene un po' per tutti i gusti. E questa cosa, ragazzi, fidati, non guasta mai. Detto ciò, ragazzi, che vi devo dire? Devo dire che è strano, perché davvero la montagna la vedevo già. Invece ora si parla di Generation. E poi soprattutto, ragazzi, Portento del Punto ha messo le tutine per i bambini. I bambini, si vede, che giocano col triciclo. Ragazzi, ci sono dei riferimenti alle fasce d'età, anche in Portento del Punto, ma c'è anche lo slittino. Quindi, colpa di quei ricordi, noi siamo tutti confusi, così confusi da colpirci da soli. Ma cosa arriverà? Entrambi? Prima l'uno, poi l'altro? Non lo sappiamo, ragazzi. Quello che vi dico è di restare sintonizzati, perché, secondo me, dal gamepack in poi, ci si diverte. Loro continuano a rispondere alle nostre domande, noi dobbiamo cercare di capire cosa succede, e spero vogliate farmi compagnia in questa impresa per scoprire cosa ci riserva il futuro di The Sims 4. Detto ciò, ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate, e soprattutto vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo anche che qua a schermo trovate il canale, se volete iscrivervi, anche il video consigliato. Io, come sempre, vi do l'appuntamento. Alla prossima vi dico ciao a tutti!